La tua ultima missione non è andata un granché bene. La strage che hai provocato ci darà un sacco di problemi. Volevano violentare Sara. La polizia dovrebbe ringraziarmi. Lo so, ma quello che è scappato ci darà delle noie. Cosa? Non è scappato nessuno. Sono morti tutti. Uno no, l'hanno estratto vivo dalle lamiere. Oh merda. Quello che hai ucciso era il figlio di un assessore, amico del sindaco e compari di Morello. E il sopravvissuto gli avrà spifferato tutto. Non chiamasse molto suo figlio. Ma spesso in questi casi uno si ricorda dei legami familiari. Tra l'altro, il funerale è oggi. Peccato che non ce la farò. Fortuna che il secondo non ti conosceva. E non ti ha identificato. Ma non è per questo che sei qui. Tom, ho un lavoro delicato per te oggi. Vieni, saliamo in auto. Il proprietario di un'attività sulla quale il donna ha investito parecchio denaro si è improvvisamente scordato delle sue responsabilità ed è passato sotto l'ala di Morello. Sembra che Morello voglia forzarci la mano. Ma noi non staremo al suo gioco. Allora, che succede? C'è da far esplodere un posto. Cosa? Che razza di posto è? Un albergo. Cioè, a dire il vero, è un bordello. Non il solito casino. Un posto raffinato per gente di classe. E dovrei ucciderli tutti? Ma no. Dobbiamo liquidare il gestore e fargli saltare l'ufficio. Come avvertimento dovrebbe bastare. Dobbiamo significa devi, giusto Frank? Stendo il proprietario e faccio esplodere l'hotel. Esatto. Ah, un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello informazioni sulle nostre attività. Va eliminata anche lei. Frank. Devo... Devo uccidere una donna. A volte capita. Questa è la sua foto. Carina. Mi sembra di averla già vista. Sei sicuro che sia lei? Purtroppo sì. La sua lingua ci è costata un sacco di soldi e anche qualche vita. Perché non ci pensano Poli o Sam? Li conoscono anche troppo bene. Li farebbero fuori ancora prima di entrare. Allora qual è il piano? Vai ad Outtaun al Corleone Hotel. Trova il titolare Stendilo. In pubblico servirà da esempio. Poi pensa alla ragazza. L'ufficio del tipo sta all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e poi piazza l'esplosivo. Non avrai tempo per fare altro. Non sarà una scampagnata. Lo so. Ma se non ce ne occupiamo adesso, i prossimi saremo noi. Forse hai ragione. L'arma e gli esplosivi sono nell'auto. Buona fortuna, Tom. Non la conosco. Ne guidavo una. Non lo facevo il tassista. Posso entrarci anche senza chiavi. Ti vuoi divertire, dolcezza? Ciao, bel fusto! Buonasera. Dove posso trovare il titolare? E a cena nel ristorante dell'albergo, signore. Oltre quelle porte. Quello in giacca bianca. Grazie mille. Grazie mille. Che... che... che ti ha... che ti ha mandato? Che... 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 Che vedete? Ho famiglia, ho dei bambini. Lasciami stare, ti prego. No, ti prego! Rispargiami! Ammi pianta di me, ove... Mi ha vinto a me! No! Santo cielo! Lui! Ho dei bambini! Ho famiglia, ho famiglia! Ho famiglia, ho famiglia! Ho famiglia, ho famiglia! Ho famiglia, ho famiglia! Ho famiglia Ho famiglia, ho famiglia! Ro famiglia, ho famiglia! advocates hники decogi No! Sì, Sì, Sì. Cosa? Tom! Congratularmi con te, campeone. Ma che stai facendo? Michelle! Ma cosa succede? Che intendi fare? Che cosa vuoi da me? Mi dispiace, Michelle. Ma mi risulta che parecchia gente sia stata uccisa per colpa delle tue chiacchiere. E altri hanno perso un sacco di soldi. Sei troppo pericolosa per noi. No, non è vero. Non può essere vero. Tom, aspetta. Io non sapevo che avrei danneggiato qualcuno. Volevo aiutare mio fratello. Lo sapevo, poteva capitare solo a me. Un fiasco totale. Non riuscivo a uccidere una ragazza. Una piccola ingenua che voleva solo aiutare suo fratello. Che forse era un vero bastardo. Ma vale la pena farsi uccidere per una cosa così. Vestiti e vattene. Grazie. Questo posto tra un po' salterà in aria. Non voglio mai più vederti in città. Nessuno deve mai più vederti. Grazie. Grazie mille. In questa città sei morta. Vattene e non farti più vedere da queste parti. Chiaro? Ti prometto che non sentirai più parlare di me. Grazie mille. Sì, 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 sì. Solo ordinaria amministrazione.